Cara Vergine, qual è la tua carta? Quali sono le tue carte per quanto riguarda la giornata di domani 1 dicembre? Che indicazioni ti danno le carte? Il carro! Cara Vergine, c'è il carro! Determinazione e autocontrollo, avanzamento del lavoro, riconoscimento del successo da parte degli altri. Una bella giornata, sei determinato ad andare avanti, ci saranno delle dimostrazioni di successo, anche di affetto a volte, ok? In ogni caso ci saranno delle azioni o avverranno delle cose che ti metteranno nelle condizioni di muoverti, potrebbe essere per un viaggio, potrebbe essere invece proprio per un riconoscimento, un avanzamento nel lavoro, a casa, nella situazione familiare. Il mondo! Dieto fine, il cerchio si chiude, crescita e illuminazione spirituale, potresti ricevere delle notizie, caro Vergine o cara Vergine, che ti permetteranno di affrontare una situazione nuova, che ti comunicheranno di come si sia chiuso, si stia chiudendo un cerchio, un ciclo della tua vita. Sei pronto a lanciarti avanti, ok? Perfetto Vergine, queste erano le tue carte per il giorno 1 di dicembre. Ci sentiamo presto, bye bye!